Run like hell, run like the wind, run like the fire as the devil walks in, I hear trouble, bring it by bed, turn it down baby, run like hell Bentornati amici di Obiettivo News, in una nuova puntata del nostro programma 2-4 ruote e passioni motori Continuiamo a restare nel mondo delle due ruote, finalmente abbiamo un ospite femminile, abbiamo infatti qui con noi Arianna Barale, benvenuta Grazie mille, grazie per l'invito Figurati, visto che comunque sei una rappresentante del sesso femminile, siccome purtroppo diciamo uno sport, il motociclismo che si sta aprendo alle donne per fortuna ma con i soliti preconcetti dovuti al mondo dei maschi Tu hai iniziato da piccolissima? Sì, ho iniziato che avevo circa 6 anni, quindi da molto che corro Hai iniziato con le minimoto? Sì, con le minimoto, grazie a mio papà che correva già, quindi lui mi ha passato la passione Questa passione è nata sin da piccola, poi sei cresciuta, hai preso patto a diversi campionati importanti Ricordiamo nel 2021 hai partecipato allo Women's European Cup Sì, poi ho fatto il 2021 e il 2022 in quel campionato, poi quest'anno invece parteciperò al campionato italiano femminile Femminile, quindi sarete un campionato dedicato totalmente alle donne? Quante sarete? Sì, ora ancora non lo so, però anche sia nel 2021 che nel 2022 era un campionato totalmente femminile, quindi è stato molto bello Età? E dipende, io sono stata una delle più piccole, poi dipende, erano tutte adulte, la maggior parte Sì, una collaborazione quest'anno con un team importante, il team Pedercini Sì, sono molto contenta perché quest'anno ho cambiato team, resterò sempre con la stessa moto, la Kawasaki Sono contenta perché comunque adesso vedremo, cioè il campionato deve ancora iniziare Quindi ho fatto il primo test la scorsa settimana a Misano, è andato molto bene, poi vedremo il 30 di aprile 30 di aprile, prima prova, al quale parteciperai con grinta e... Sì, assolutamente Cosa provi quando corri in moto? Tantissime emozioni, sinceramente non so spiegartelo, poi ovviamente in griglia di partenza ad esempio sono molto tesa Ma allo stesso tempo non vedo l'ora che la gara inizi, che si spenga il semacolo E poi quando parto spengo proprio, cioè tutte le emozioni spariscono, tutte le paure e poi mi concentro sulla gara E beh, ovviamente E anche a livello fisico comunque è uno sport comunque faticoso, quindi ti alleni Sì, mi alleno, durante la settimana vado in palestra, poi durante il weekend ho la mia moto di allenamento e vado in pista ad allenarmi Solo pista o a... Prevalentemente pista, poi alcune volte, adesso un po' di tempo fa ho fatto qualche corso con la moto da flat track Che è un'altra disciplina che diciamo ti allena per la moto da velocità Tu comunque sei molto giovane, i tuoi coetanei cosa dicono di... cosa pensano? Uno, che sei una donna che fa uno sport prettamente maschile Sì, soprattutto i miei amici maschi mi invidiano perché ovviamente anche loro hanno le moto da strada Quindi anche loro vorrebbero iniziare a fare questo sport e... però diciamo anche le ragazze sono contente Sì, comunque provano soddisfazione per questa tua... tu vai ancora a scuola? Sì, faccio secondo superiore Qual è il tuo sogno? Il mio sogno nel cassetto da sempre è stato quello di arrivare al mondiale anche se ovviamente non è facile Però il mio obiettivo è quello, poi ovviamente si vedrà Sì, sì, è molto giovane quindi sì Andando per gradi sicuramente riuscirai a ottenere i... a cercare di raggiungere i tuoi obiettivi Il tuo idolo? Vabbè, è scontato, il mio idolo è sempre stato Valentino Rossi Per ora, come ora, ad esempio in MotoGP tifo Pecco Bagnaia E mi piace anche Fabio Quartararo, il suo rivale E poi tifo tutti gli italiani in MotoGP e comunque in tutte le categorie del mondiale Sì, certo E poi comunque essendo piemontese ovviamente abbiamo un campione del mondo in casa Per cui mi sembra ovvio E essendo che comunque hai fatto questo campionato che ripercorre comunque tutte le maggiori piste italiane Qual è la pista dove ti trovi più a tuo agio? La pista a cui sono affezionata maggiormente è il Mugello Anche se ho avuto un brutto incidente nel 2020 Però mi piace, mi piace tantissimo E anche Valencia in Spagna Purtroppo quest'anno non ci ritornerò Però resta sempre una delle mie preferite Quest'anno no, il prossimo anno ti lo sa Speriamo, speriamo Ritornando a quello che hai detto tu del Mugello, dell'incidente che hai avuto Per fortuna si è concluso nel migliore dei modi Nonostante le avversità non hai perso la voglia di tornare a colore No, assolutamente, addirittura il primo giorno che ero in ospedale Che ero ancora un po' intontita Avevo chiesto ai miei genitori quando potessi risalire in moto Anzi, addirittura se potevo rifare la gara la domenica Dopo l'incidente sei, dopo alcuni mesi sei ritornata in sella Non hai avuto... Ci ho messo un po' a riprendere il giro Perché comunque ero praticamente senza forza, senza niente Quindi mi mancava tantissimo l'allenamento E poi piano piano, anche perché poi io sono risalita in moto Quando la stagione era ormai finita Quindi ho avuto il tempo un po' di riprendermi durante l'inverno E poi ho cambiato totalmente categoria, come hai detto nel 2021 Ho fatto la Women's Cup Con una moto totalmente diversa Sì, perché tu ti sei fatta male con l'Empra in moto 3 Sì Che era una moto diversissima, più leggera, andava più forte E quindi cambiando hai cambiato, hai alzato l'asticella sempre di più Quindi è dimostrazione del fatto che nonostante tutto bisogna reagire a... Non arrendersi mai Alle cose brutte, infatti hai altre passioni al di là del mondo dei motori Ma a me piace lo sport in generale Poi... sì, mi piace fare sport in generale E a livello psicologico? A livello mentale? Importante... Sì, moltissimo Qual è un... diciamo... non una caratteristica Un modo, no? Per riuscire a concentrarsi poi effettivamente Ma ti dico, io soprattutto dopo l'incidente Sono andata da un mental coach che è molto utile Che mi ha aiutato soprattutto sulla concentrazione Perché io ho molti problemi su concentrarmi in moto E quindi mi ha aiutato tanto Ora purtroppo non ci vado più Però sì, è importante andare da questi specialisti che ti aiutano Sì, perché poi quando sei lì Sì, esatto Sarai di farci tutto per la testa Quindi avere dei... sapere su cosa... Su cosa concentrarsi Su cosa concentrarsi Anche ad esempio in palestra faccio degli esercizi Proprio per la concentrazione Sì, quindi esistono proprio degli esercizi Prattamente dedicati a quello E quindi abbiamo detto un po' quali sono le tue aspirazioni Quindi quella di arrivare a correre nei campionati mondiali Si spera Però noi te lo auguriamo Ovviamente non bisogna mai mollare I tuoi genitori ovviamente Vabbè, il tuo papà Sì Il mio papà mi ha passato a passione Quindi Per forza Per forza di cose Non può non essere soddisfatto Non può non essere... Anche se a volte mi dice che sei pentito Avrebbe preferito Che avessi iniziato uno sport un po' più Diciamo Pallavolo Danza Li ho fatti Li ho provati Da piccola però ho lasciato perdere Era il mio sport Quando c'è una passione c'è una passione Noi ti auguriamo davvero un grosso in bocca al lupo Per la stagione che sta per iniziare Andrà... Finirà verso settembre-ottobre Sì, finisce il primo di ottobre Il campionato Bocca al lupo Grazie Mi raccomando Grazie di essere stata Grazie di essere stata nostra host Grazie a voi Una cosa che non ti ho chiesto Che mi viene in mente adesso Qual è il messaggio che ti senti di dare alle ragazze Che magari sono titubanti Ma vorrebbero avvicinarsi a questo sport? Beh, innanzitutto è quello di non arrendersi mai E di credere nei propri sogni e nei propri obiettivi Quindi il sesso non conta Non conta, assolutamente Rompiamo questo falso mito del sesso Sì, anche perché io ho corso sempre con i ragazzi Fino al 2020 Prima che uscisse il campionato femminile Ho sempre corso con i ragazzi E dato paga i matti Quindi dimostrazione Qualche volta Beh, vabbè Anche solo una volta Dimostrazione che si può fare Vuoi ringraziare qualcuno? Sì, ci tenevo a ringraziare tutti i miei sponsor Che purtroppo non posso elencare tutti Perché se lo finirei domani Fortunatamente E grazie a loro che corro E mi permettono di correre E poi anche tutti quelli Che mi sono vicini Da praticamente quando ho iniziato Ringrazio Grazie di essere stata la nostra ospite Noi amici di Obiettivo News Ci vediamo ad una prossima puntata Continuate a seguirci Su Obiettivo News E su tutti i nostri canali social Grazie a tutti Grazie a tutti